Da cinese il macellaio si combina un altro guaio, mangia sempre con passione e si prende in digestione. Galantina e poi Nervetti, lui ne ingoglia setto tetti, i dolori sono tanti, serviranno dei purganti? Sempre prima delle otto io mi bevo un bello vetto e alle dieci di mattina mi faccio un glampalino con un po' di galantina e poi a planzo non lo nego, a tavola mi ci siedo, tortelli di gallina di capone e poi all'otto di tacchino con contorno di piccione. Mi alledano il simbosio e mi cammino il desio. Per merenda verso le quattro io mi sparo 4-4 la frittata con flattaglie con supporto di due quaglie. Per cena sono in contatto, salciosa o carbonara, mangio entrambi senza cala. E per finire la falaona mi sembra costa giusta e buona. Di notte, verso le due, la tetta gira a base e mi sento come muore. Ingoio, 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 ingoio una caghezza ma che picchia più forte ma mi sento sulle spine. Ma perché sto così male? Se poi alla fine faccio vita regolare, la febbre sale a vista e la bocca mi si impatta. Calori, femmiti e vomiti. Nel delirio vedo l'asia e la vita mia le calme. Lo sapevo, era nell'aria? Ho preso l'influenza viaria.